Abbiamo saputo del caso del coronavirus qui a Cembra e all'inizio eravamo un po' anche noi preoccupati come logicamente doveva essere. La nostra cliente paziente era caduta a casa e in seguito poi al trasporto presso l'ospedale di Cavalese avevano deciso di fare correttamente un tampone perché il soggetto aveva anche una bronchite abbastanza importante per la verità di tipo cronico. In seguito a questo hanno riscontrato il coronavirus. La dottoressa che aveva visitato il paziente è stata messa in quarantena come sono stati messi in quarantena anche i volontari della Stella Bianca che avevano operato il trasporto. Noi subito in farmacia ci siamo organizzati seguendo quelle che erano delle direttive che venivano diramate dalla FOFI, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti e abbiamo cercato di tranquillizzare per prima cosa la popolazione. Abbiamo provveduto poi ad installare dei pannelli in plexiglass in modo tale da tenere a debita distanza le persone e da ieri abbiamo indirizzato le persone a un corretto afflusso in farmacia in modo tale che una persona potesse essere presente in farmacia davanti a ogni posizione. Le posizioni le postazioni sono tre pertanto più di tre persone non entrano in farmacia. Poi questi pannelli di plexiglass tengono a debita distanza il cliente paziente dal personale della farmacia stessa. Paura no però credo che se tutti rispettiamo quello che ci è stato chiesto di fare e le norme di comportamento la situazione magari si tolle prima. Certo che magari un po' di sana paura fa bene per aiutare la gente a capire che non è una cosa da prendere sotto gamba e che vanno rispettate tutte le normative, le direttive che ci sono state date per tutelare noi, i nostri familiari, i nostri genitori, i nostri nonni. La sensazione è questa, le persone sono preoccupate, chiedono in maniera importante quali sono i sintomi, io spiego in maniera dettagliata quello che è un mal di testa che non sempre però è presente, di fondamentale importanza invece il fattore dispinoico cioè la difficoltà respiratoria. L'altra cosa ancora è il discorso della febbre, dell'accesso febbrile e non ultimo che purtroppo spesso è dimenticato è il problema della scarica di diarrea continua. Il panico può essere dato nel momento in cui una persona contrae quello che è una normale sindrome influenzale e dramatizza subito, pertanto dobbiamo rendere la popolazione dotta perché non si preoccupi eccessivamente. Attenzione pertanto che un semplice raffreddore, quello che potrebbe essere un mal di gola, quello che potrebbe essere anche un arrossamento ma perché anche la congiuntivite può essere un iniziale sintomo di, però dobbiamo assolutamente distinguere quello che potrebbe essere una banale congiuntivite a quello che potrebbe essere invece un indizio di quello che potrebbe essere il coronavirus.